Musica Musica La fulsuometro di massa eh La fulsuometra di massa eh E' il flusso canalizzatore Il fulsuometro di crocantesa Dei crack e Mare il flusso canalizzatore Sì, sesso un canale dove E' il flusso canalizzatore Grazie, che potenza e' il flusso canalizzatore Il flusso coso fruifi Flusso, no? Flusso! Grazie alla potenza del furlatore che significa. Perché... ...primute di melanzane... Eh si... ...che... ...che... ...pensa partire. No no? Eh, perché non si prende l'estate se è tardi la primavera? Questo è qualche problema. Averso sbagliare la scenda. Eh, pensai che... Sì, è da 26 giorni che sta la primavera. Oh, manica rotta che coglione. Che cazzo... C'è primavera, estate, primavera. Uuuu... Uuuu... Qua hai detto ancora che siamo in... ...fine... ...fine primavera. Adesso siamo inizio l'estate. Oh, sei tornandrio. Perché mi sei ancora primavera? Davvero mi sei ancora tardo primavera. Aspetta che si... ...sistema adesso che so aggiornarsi. Eh, ma siamo a 9, si è l'ultimo giorno. Adesso questo che adesso... Sì, ma... No, no. Adesso è giorno attiva e tra le notte. Adesso è il primo sostizio di autunno. Sì, del buzo al cu. Anca. Dicca. Dicca. Il nuovo aiutante. Dicca. 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 Dicca mi amore. Guarda. Fb. Fb. Cia. Dicca. 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 Questo campo non è tuo. Dove mi fai a dire che vai a far te omettare. And the way you are. Stracci d'inglese. ma ti fa erano le andame in cura ma tu ti mai capito ma qualcosa, pippe? ah beh, pippe? ma non sei, pippe, ma io maggi ma io sono sempre gay no comment? sei semplicemente un gay grazie tesoro dai pure per lo che è avvolto io non ho capito, questo è chiaro un sito guarda tista gente, adesso faccio vedere tutti i casini che è combinato eh che manca una baia, dai eh infatti devo dire che devo farsi una baia oh guarda che è stata materia prima qua dai un po' tornano indietro infatti come minimo 2.000 litri questi qua pinze de merda che non stringi un cazzo che è il ecco, bravo va in mona va in mona io preferivo le forche eh ma le forche non puoi forcare il puoi caricare le balle scaricaricare guarda vado che si finisce come ripeti questa perla di saggezza no non ripeto niente dico le cose una volta sola come pagani canta barucchi sveglia macacchi ecco proprio un trisessualet si proprio oh se vuoi caricare dei video in di fuori male non so cosa che faccia o ti piace la pagana a segnale maria un trisessualet si, perché il caso te che la figlia, te che il culo te che la figlia nel culo è un po' disessuale allora un penta sessuale lei perchè che dà anche le bocca si invece una pigora, scrausa, riccione no è stato che l'ho scoperto che che dà anche le naso guarda dopo di questo è meglio che ti ha registrato sennò qua mi sconvolge l'esistenza ti sei sconvolto si sconvolge sconcertante te si sconcertante fino a 2 balle in mezzo campo vabbè cazzo ne so non puoi contare i balle qua eh siamo diventati poi siamo miei mezzo in campo eh arrivo qua il porseo si parli il porseo dovrei farli su fa un mese e mezzo qua siamo sali del marco yeee si sa da buon tipico rea porchita dai che devo registrare qua 3,2,1 aspetta un attimo number one siamo finalmente guardate guardate io casa guardate ti vedi ignorante ma cazzo hai fatto infracardino no dopo questa bestemmia marco minimo ah giusto le uova che cazzo ah mi non c'entro niente guarda che bello stai facendo stai facendo vedi ignorante ovvio mamone dove si io? qua dove ci sono le galline ero se di meca bestemmione ero se di meca bestemmione no dall'altra parte vivi qua ma vai siiii come cazzo se fa incontrassinare ora meglio che vai avanti col tempo prima che oh viiii oh è coparsela vabbè 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 stavate stavate con questo terapeo del cazzo prima che ti fai un culo allora vabbè vabbè sai che si qua adesso è mezzanotte 03 di colpo pizzemmo la luce lampeggianti che gira la manetta si dovevi stuporare il mouse no no cos'era vabbè ecco vacca vacca buea mucca 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 ma no te si vabbè vabbè piorea nessuno supererà mai la mia ignoranza tranne Marco perchè mi perdo le perle di stronzate di Marco perchè perchè te hai fatto un pato col diavolo no no veramente devo giocare in bombo un sacco di volte se tutti i video in oriente che ho fatto sono da dove vengono fuori pensati gli skycut se pare fa merito mio a metà zero qua bisogna avere un pagamento da buondità pipi skycut amico youtube cosa stiamo prendendo per merito zero vero vero infatti siamo sfruttati per colpa tua questo sei che hai il silenzio devi pagarsi me devi ancora uno stipendio dai fare il 2013 vi pago vi pago fu la vita anzi dal 2011 perchè eravamo insieme anche nel 2011 70 ripingi vedete che brutta troia che sono per niente dai pigorella te fa mangiare la droga o te scoresi ti vieni fuori la droga teo spar warrior 7250 puo andare dai e poi c'altro il fame è forte 190 ecco una scuola è bello felice come un tacchino gioioso che ma che fa il verso là come si dice ricordo come non mi si simpan no ma il ruborinco non mi si sapesse dico del verso che fa il nome del verso del tacchino le gluguri HH 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 HBI e che casto vedi ah eh e le piglotti che acchino Vabbè, tacchinare dai! Allora, scrivi su Google verso del tacchino Cioè vedemmo verso del tacchino e tacchinare No, è come dire che io panchino quando vado a giocare a calcio Eh, bravo, mi siete giocato e fai panchinaro Cosa che non faccio da 3-4 anni Ah, non fai più, allora che cazzo vado a fare? No, vabbè, guarda che non faccio più il panchinaro Ah, non pensavo mi facessi più un cazzo Verso del tacchino, gogle Oh, vediamo cosa mi dice Se si carica, dai Non mi fare il turkese sound Come si chiama il verso del tacchino? Ah, goglottare, sì Sì, goglottare Ah, goglottare Ah, goglottare Pesso pieno Ma che, madonna, ci sono dei cartoni, eh Che grazie di ragione Non mi fa male Ah, non mi fa male Allora, aspetta, che se Un tocco, una piggura e un pollo Un, un, un manacassi Un tappo che ti mangia Erba mattina o sera E ti mangia anche I cruchisang Cruchisang, là Croissant Una brioche Ecco, si, ti mangia il bro Che di altro di brioche Ti mangia il bro sono tutte balle. Stasera invece Pulle ha tirato su Santi e madonna. Se ne è fuori un esaurimento polloso. Dado in basso da casateare e da arrumare tutta quanta la casa. Devo coetare tutti quanti. Nevica in Trentino e che cazzo? Adesso chiusi a te. Ma potete fare in giro con questo coetico e potete svinterlo in terra. Ma potete fermare al culo. Che non ti si bonde camminare con questo coetico. Marco, hai limite adesso se ti vuoi andare a mettere via ti e ba eh. Se devi essere più sicuro. Eh? Possiamo sentire una picorella rompipalle che si diverte a fare il simpaticone col clacson. Ho fatto qualche disagio mentale che non ti si bonde sta fermo. Un nano contro un gigante. Se hai insomma. Beh, a fine si è il Vata se pizzeva dalla trebbia. Ecco in realtà lo se pizzeva da me. Marco ha cacato una palla. Un pitelotto. E di grazia delle cagate. Guarda che se vado in retromarcia ti tiro giù te le balle. No, ma forza quel nano là. Io dovrei girare eh. Non so se avete capito. Basta trebbiamo. Che la prossima volta riprendiamo. Boh, sono anche l'86% quindi. Dai Cocodè scaricami. Vedo se riesci a fare un bayon. Eh, quanto sai. E con questo abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e arrivederci. Bella raga! Ciao!